Quanto tempo ci posso mettere a tagliare un campo del genere con questa forbicina? Testiamolo! Siamo partiti immediatamente a tagliare il campo, dato che l'erba non si taglia da sola. È appena passata mezz'ora e c'è una bellissima novità, ovvero mi son rotto questo dito a forza di tagliare erbe. Che due coglioni! Per portare a termine queste opere, una cosa fondamentale è il fatto di non demoralizzarsi mai. Siamo a 48 minuti e 40 e la situazione è veramente difficile. Quest'opera è continuata per ore, infatti siamo arrivati a 50...